fallo chi può battere lì? Righini chi è? ah no, Ambrosini c'è? non tiri? la metti in me? ah di... cioè sei non proprio al limite ma sei... ah vabbè è il potere scarso! animo, animo! è andato via là, c'è solo Ambrosini infatti la butta vedi che l'aveva tirata, addio a poco ah vabbè piano che... 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 buon aspo Brighi, Brighi sta buon troppo no ah non lo so Brighi, non sei dato? Grazie!